ok sto registrando faccio ok vado fine giù un attimo così si vede tutto torna su e te adesso incominciamo con la maglia perfetto si vede questa maglia come è fatta puoi girare su te stessa giusto per farla vedere da dietro anche ok poi gonna perfetto molto carina palloncino con il tipo di cintura perfetto adesso la borsa molto con la frangetta simpaticissima aprila no non vuoi aprire perfetto facciamo vedere quello che c'è dentro e ok adesso collana molto simpatica nell'inceria e abbe si vedono però uno solo braccialetto stivali adesso devi venire verso di me con gli stivali ok basta troppo vicino vabbè tutto a posto girati e adesso devi staccare vado fine sopra torni su ti puoi fare la sfilata tira scendo giù e risalgo adesso puoi salutare no che devi far vedere ah non ho scordato del cappottino cazzo molto bello cappotto si prende tutto il cappotto girati anche da dietro palloncino perfetto adesso puoi salutare ci vediamo domani grazie 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 grazie